titolo il racconto di tom kitten autore beatrix potter genere racconto di fantasia piccola descrizione divertente avventura di un piccolo gattino eccoci i tre gattini mittens tom kitten e moped un giorno la loro mamma la signora tabita tweet kit li portò dentro alla casa vostra per prepararsi loro per il tea party prima lei punisce la loro la faccia questo è il gattino moped poi lei ha spazzolato la loro pelliccia questo è il gattino mittens poi lei ha pettinato la loro coda e i baffi questo è il gattino tom la signora tabita tweet kit ha tirato fuori dal cassetto dei bei vestiti e ha vestito i suoi gattini ma i gattini hanno trovato i vestiti molto scomodi moped e mittens indossavano dei grembiuli bianchi tom kitten indossava l'abito blu che gli era troppo stretto per lui i bottoni cominciarono a scoppiare fuori la signora tabita tweet kit li ha cuttiti di nuovo quando furono pronti la signora tabita tweet kit li mandò fuori loro a giocare mantenete puliti i vostri vestiti bambini ha detto lei in giardino tom kitten ha inseguito una farfalla moped e mittens sono caduti sul sentiero e hanno sporcato i loro vestiti poi moped e mittens si arrampicarono e si sono seduti sul muretto del giardino vieni tom hanno chiamato loro i bottoni di tom kitten erano scoppiati fuori di nuovo moped e mittens hanno aiutato tom ad arrampicarsi sul muro del giardino lui ha perso il cappello e il suo vestito stava cadendo giù mentre i gattini erano seduti sul muretto del giardino tre papere camminarono lungo la strada loro gli chiamavano le papere della pozzanghera le papere delle pozzanghere hanno indossato il cappello di tom moped mittens e tom kitten hanno riso così tanto e sono caduti giù dal muro del giardino ci aiuterai a vestire a tom kitten disse moped alle papere della pozzanghera ma una delle papere delle pozzanghere ha indossato i vestiti di tom kitten è una bellissima mattinata disse la papera pozzanghera poi le tre papere delle pozzanghere si sono allontanato lungo la strada con tutti i vestiti dei gattini al dorso i loro piedi facevano pit pat patta di pagaia pit pat patta di pagaia la signora tabita tweet kit ha trovato i suoi gattini seduti sul muretto del giardino senza vestiti al dorso lei era molto arrabbiata lei ha schiaffeggiato suoi gattini e li ha mandati di sopra alle loro stanze quando sono arrivate le amiche della signora tabita lei ha detto a loro che i suoi gattini erano a letto con il morbillo ma i gattini non erano niente affatto a letto le papere delle pozzanghere sono andate sul stagno e i loro vestiti sono caduti fuori loro ancora lo stanno cercando a letto con il morbillo ma i gattini non erano niente affatto a letto le